Come nascono i vulcani. Ciao a tutti e benvenuti in questo video in cui vi spiegherò come nascono i vulcani. I vulcani sono delle montagne che eruttano la lava, il fumo e la cenere. Sono fenomeni naturali affascinanti e misteriosi, che hanno affascinato l'uomo fin dall'antichità. In questo video, vi spiegherò come si formano i vulcani e quali sono i diversi tipi di vulcani che esistono. Se sei interessato ai contenuti di questo canale ti invito ad iscriverti e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. I vulcani nascono dove la crosta terrestre è più sottile e dove la lava può risalire in superficie. La crosta terrestre è divisa in placche tettoniche, che si muovono continuamente. Quando due placche tettoniche si scontrano, una delle placche si infila sotto l'altra. In questo punto, la crosta terrestre si assottiglia e la lava può risalire in superficie. Esistono due tipi principali di vulcani, i vulcani attivi e i vulcani spenti. I vulcani attivi sono quelli che eruttano periodicamente. I vulcani spenti sono quelli che non eruttano da molto tempo. I vulcani attivi. I vulcani attivi sono quelli che eruttano periodicamente. Le eruzioni vulcaniche possono essere di diverso tipo, a seconda della viscosità della lava e della quantità di gas che si trova in essa. Le eruzioni effusive sono quelle in cui la lava è fluida e scorre lungo i fianchi del vulcano. Le eruzioni esplosive sono quelle in cui la lava è viscosa e si accumula all'interno del vulcano, formando un cono. Quando la pressione diventa troppo alta, la lava esplode, lanciando in aria cenere, lapiglie e bombe vulcaniche. I vulcani spenti. I vulcani spenti sono quelli che non eruttano da molto tempo. Tuttavia, è importante ricordare che anche i vulcani spenti possono risvegliarsi. I diversi tipi di vulcani. Esistono diversi tipi di vulcani, a seconda della forma e della composizione della lava. I vulcani a scudo sono i più comuni. Hanno una forma simile a uno scudo e si formano da eruzioni effusive di lava fluida. I vulcani a cono hanno una forma simile a un cono e si formano da eruzioni esplosive di lava viscosa. I vulcani a caldera sono vulcani che hanno subito un'eruzione esplosiva molto violenta, che ha provocato il collasso del cono vulcanico. I vulcani sono fenomeni naturali affascinanti e misteriosi. Sono importanti per l'ambiente, in quanto contribuiscono alla formazione delle rocce e dei minerali. I vulcani possono anche essere pericolosi, in quanto le loro eruzioni possono causare danni alle persone e alle cose. Grazie per aver guardato tutto il video. Se ti è piaciuto e desideri vedere altri contenuti simili, non dimenticare di mettere un like, commentare e condividere con i tuoi amici. E se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al mio canale per non perdere i prossimi video.